Vedremo come finiranno queste giornate, quali saranno le scelte degli attori e soprattutto del Presidente della Repubblica. Oggi però si certifica il fallimento in Italia dell'ideologia e del governo nazional populista sovranista. Hanno fallito, hanno governato ad oggi per 431 giorni senza produrre nulla di utile per il Paese, molta propaganda, molta ideologia, zero crescita, non hanno idea di come affrontare la mancanza di crescita e buona occupazione in Italia, il debito pubblico che avanza, non hanno idea di come affrontare la prossima legge di bilancio. Falliscono su questo.